Noi cominciamo un viaggio per destagionalizzare la nostra stagione turistica, per portarla anche fuori dalle settimane estive e lo facciamo comunicando qui a Berlino anche la grande stagione degli eventi. Brian Ferri, Patti Smith, una grande intensità di lavoro che viene coagulata dentro una idea di Puglia fatta a sé di mare di natura straordinaria ma anche di eventi culturali molto importanti che si incarnano dentro una manifestazione il Medimex che restituisce a diverse città della Puglia ma soprattutto quest'anno a Taranto e a Foggia una dimensione di attrazione senza della quale queste città rischiano di essere un po' trascurate. Ecco invece noi impuntiamo su Taranto e Foggia per costruire in queste città una idea anche turistica che possa avere gli stessi effetti positivi delle altre città della Puglia.